Per essere più efficienti e competitive, le aziende oggi devono sempre più essere in grado di collaborare tra loro. Per esempio, nell'ambito delle filiere e delle supply chain, diversi soggetti collaborano per offrire un servizio integrato o per definire nuovi prodotti creati a partire da asset messi a disposizione da una rete di attori. Si pensi ad esempio alle filiere della logistica, dove lo scambio continuo di informazioni è fondamentale per gestire in maniera completa la movimentazione delle merci. I confini di business si stanno dissolvendo sempre più. Le reti di collaborazione permettono di consolidare i propri servizi core e di esplorare nuove opportunità di sviluppo in segmenti di mercato collaterali. La collaborazione diventa fondamentale anche all'interno di una stessa azienda o gruppo industriale, perché permette di sbloccare ulteriore valore a partire da elementi condivisi e non più confinati all'interno di strutture organizzative chiuse. Gli ecosistemi digitali sono uno dei modelli più efficaci per abilitare la collaborazione attraverso lo scambio di dati, informazioni e servizi tra imprese, organizzazioni e pubbliche amministrazioni. Gli ecosistemi digitali sono infatti dei veri e propri mercati innovativi business to business in cui molteplici realtà possono da un lato mettere a disposizione, dall'altro utilizzare, secondo linee guida e regole condivise, dati e servizi digitali di nuova generazione per costruire nuove soluzioni o arricchire soluzioni già esistenti. I prodotti digitali scambiati all'interno di tali mercati possono avere diversa natura, come ad esempio dataset, flussi informativi, connettori a servizi digitali o anche funzionalità infrastrutturali, quali ad esempio capacità di elaborazione erogate in cloud. Cefriel da oltre dieci anni accompagna diverse realtà lungo il percorso di costruzione di ecosistemi digitali. A partire dall'esperienza dell'ecosistema digitale E015 abbiamo messo a punto il Digital Ecosystem Toolkit, un framework operativo per la costruzione di ecosistemi, grazie al quale aiutiamo i nostri clienti a trasformare gli asset tecnologici in veri e propri prodotti di business, condividendoli in modo regolamentato all'interno di mercati B2B. I nostri servizi, in grado di generare rapidamente risultati tangibili, oltre a consentire la creazione di nuovi ecosistemi digitali, permettono di favorirne il progressivo percorso di adozione, gestione e diffusione in piena coerenza con le più recenti iniziative, come ad esempio GaiaX. Grazie a tutti!